Buonasera, Buonasera a tutti e buonasera agli spettatori di Telefriuli per questa nuova edizione di Fuori Classe. Fuori Classe è ormai un format consolidato per Telefriuli che da anni dà la voce a tutte le piccole e grandi scuole della nostra provincia che molto spesso sono molto più grandi di quello che sembrano proprio per la qualità dell'insegnamento e la qualità soprattutto dei ragazzi che sfornano. Prima nell'Ocse Pisa insieme alla Finlandia a livello europeo ma soprattutto prima nell'interpretare un territorio che offre sempre molti spunti di attualità. E noi abbiamo pensato di interpretarli con un format nuovo e io ringrazio ovviamente prima di tutto il direttore Daniele Paroni perché è qui con noi a battezzare questa nuova creatura Daniele. Io sono emozionato al pari di te anche perché Walter lo conosco da tanti anni, abbiamo cominciato a scrivere assieme più di vent'anni fa e oggi veramente ci ritroviamo qui in questi studi rinnovati di Telefriuli. Come diceva Walter effettivamente è una edizione nuova, nuova perché al centro dell'attenzione ci sono i ragazzi, vedrete fra poco i rappresentanti di diversi istituti anche perché quest'anno si è puntato a non portare un istituto solo ma portarne più di uno, guardando ovviamente al capologo Friulano ma guardando anche alla provincia di Udine ma anche alle altre province, infatti porteremo studenti di istituti non solo della provincia di Udine ma anche delle altre province. Quindi al centro dell'attenzione i ragazzi, li abbiamo coinvolti da subito perché questa sera Walter conduce, coordina e quindi ci sarà lui dalla prossima settimana e come avremo anche dei filmati realizzati tra i branchi di scuola puntando ovviamente all'argomento della serata. Si parla di che cosa stasera? Stasera sapete che oggi è il 4 novembre, festa dell'unità nazionale, avremmo dovuto parlare del patriottismo e della patria ma invece abbiamo scelto di parlare di una nuova modalità di interpretare la nostra identità che è quella dell'immigrazione. L'immigrazione vista dai banchi, vista da quei banchi che sono sempre più colorati non solo perché le istituzioni scolastiche come dire ne ordinano sempre di nuovi ma soprattutto perché sono colorati quelli che li occupano la nostra società è sempre più multiculturale, l'immigrazione è un fattore sempre più presente in mezzo a noi e l'immigrazione però anche vista al contrario perché noi abbiamo pensato che non sarebbe stato logico occuparsi solo dell'immigrazione presente in mezzo a noi ma anche di quel fenomeno che sta tornando diciamo così prepotentemente a manifestarsi purtroppo che è la tendenza dei nostri giovani a tornare a essere Libars di Scugnila come diceva Leonardo Zanier cioè rivedere il futuro come un qualche cosa da spendere lontano dal Friuli parleremo di questo con i nostri ospiti che vi vado subito a presentare perché abbiamo quattro istituti quattro che non attendono altro che di essere presentati allora partirei in rigoroso ordine alfabetico dal De Ganutti di Udine poi abbiamo il Magrini Marchetti di Gemona, l'Isis Magrini Marchetti abbiamo il liceo scientifico Marinelli di Udine e infine l'Isis Stringer sempre di Udine io Walter mi accomodo eh accomodati perché insomma così presentiamo anche gli ospiti gli ospiti che abbiamo come dire con noi in prima linea in prima fila a rappresentare le scuole ma anche noi io partirei appunto dal diciamo dal ideatore e dal decano di questa trasmissione che è il professor Dino del Ponte un applauso per lui che è colui che ha ideato questa trasmissione che viene realizzata dobbiamo dirlo grazie alla collaborazione della regione Friuli Venezia Giulia e della fondazione Crup ma nulla di questo accadrebbe ovviamente senza Telefriuli ma soprattutto senza una rete di scuole una rete di scuole che è capeggiata proprio dallo Stringer che quindi siamo doppiamente felici di avere qui con noi stasera la preside Anna Maria Zilli ha come dire delegato il professor Gianpaolo Izzo che è qui tra noi a portare il suo saluto allora dal punto di vista dell'inquadramento del tema noi lo diceva prima il direttore Daniele Paroni abbiamo scelto di far elaborare a ciascuna scuola un mini clip un mini filmatino sapete che oggi come dire con gli smartphone con tutta la tecnologia multimediale a disposizione dei ragazzi in attivi digitali possono fare davvero qualunque cosa e allora andrei subito ad introdurre grazie alla regia di Gian Domenico Ricci il primo contributo filmato che non è nato per l'occasione ma è il trailer elaborato dagli studenti del Magrini Marchetti ma più in particolare dalla redazione del blog Fuori dal Comune di un elaborato che ha partecipato al concorso per il premio Terzani un elaborato che parla proprio di immigrazione secondo lei quant'è la percentuale di immigrati in Italia rispetto alla popolazione? troppi, sono troppi secondo me sarà il 70% 80% secondo me non so sarà il 20% 30% penso neanche il 10% forse secondo lei possono ritenersi un problema? beh chiaramente penso di sì perché comunque il lavoro qua manca e lo Stato paga più gli immigrati che noi lavoratori italiani ma penso che quelli diciamo regolarizzati che sono stati certificati e tutto no, a parte quelli che sia o scappano dai centri o così che non si sa in pratica dove sono esattamente sì no qualcuno perché solo qualcuno? perché i rifugianti ad esempio sono un po' del sanguiso che credo è un po' del sanguiso che credo Grazie a tutti. Del quale chiederei al professor Paolo Marsic dell'ISIS Magrini Marchetti, che è seduto tra i ragazzi e quindi dal punto di vista pratico è difficilmente raggiungibile, di spiegare un po' la genesi. Come mai, intanto, che cos'è questo blog, ma magari poi lo spiegano i ragazzi, ma perché subito questa attenzione, questo focus sul tema dell'immigrazione. E quindi ce ne stiamo occupando ogni anno in realtà. Questo è solamente il trailer di una video inchiesta che abbiamo realizzato due anni fa. Non c'erano questi ragazzi, c'erano dei ragazzi che ormai sono usciti dal liceo, dall'istituto. Ed è una video inchiesta che è stata poi anche, tra l'altro, premiata al premio Terzani Scuole, perché emergeva l'impressione che i ragazzi hanno, perché sono stati intervistati i ragazzi delle scuole superiori di Gemona, l'impressione che i ragazzi hanno del fenomeno. Quello che è emerso è la disinformazione, la cattiva informazione, anche la manipolazione, la strumentalizzazione dell'informazione. Si può vedere sul sito del blog Fuori dal Comune, si può vedere l'intera inchiesta, quindi tutti i risultati che sono emersi. Quindi sul sito blogfuoridalcomune.it si può vedere tutto quanto per chi è interessato ed è davvero un bel elaborato. Ma io vorrei sentire uno dei ragazzi magari che ci spiega che cos'è questo blog. Anna, mi pare che sia la deputata a spiegarcelo. Noi siamo i ragazzi del blog Fuori dal Comune. Fino a qualche anno fa i ragazzi del blog coprivano tre istituti, in quanto Magrini e Marchetti erano due scuole separate, a cui si univano gli studenti dal Daronco, mentre adesso siamo semplicemente gli studenti di un solo istituto, l'ISIS Magrini e Marchetti, in quanto le due scuole si sono unite. Ci troviamo una volta a settimana per decidere che video inchiesta organizzare e a quali attività dedicarci. Come il video di due anni fa, l'anno scorso ci siamo anche dedicati sempre a un video per partecipare al premio Terzani. Sempre nell'ambito dell'immigrazione abbiamo deciso di recarci a Udine e organizzare delle interviste a dei ragazzi che partecipano a delle lezioni di italiano. Questo magari poi lo vedremo dopo, perché se ci resta tempo, abbiamo tutti questi video, abbiamo veramente cercato di favorire la creatività dei ragazzi e renderli protagonisti. Vorremmo chiedere a Elia, ad esempio, che è qui tra di noi e si distingue per questo copricappo che a scuola sicuramente non gli insegnano a tenere, ma che insomma è essendo un altro pittoresco. Elia, è un problema sentito a Gemona, quello dell'immigrazione, oppure è una realtà comunque periferica rispetto alle grandi città in cui questo problema si sente di meno? Per quanto possa essere piccola Gemona ritengo che comunque il problema dell'immigrazione si fa sentire anche lì. Quando è stata esposta l'idea di portare dei profughi a Gemona, appunto, si sono sollevate polemiche di ogni tipo, gente addirittura esposto punti di vista parecchio violenti, ha fatto parecchio scalpore l'intervento di, non mi ricordo chi, un'assemblea che ha detto che bisognerebbe fare saponette di questa gente. Quindi ci sono punti di vista anche molto estremi. E come si fa a coordinare un lavoro del genere? Io lo chiederei a colui che in un certo senso ha verificato la disponibilità dei ragazzi a lavorare, che è Davide Sciacchitano, però Davide è dietro, quindi bisogna... Buonasera, sì, buonasera. Come si fa? Intanto si cerca di ascoltare i ragazzi, cerchiamo di portare avanti un metodo con l'associazione MEC, Media Educazione e Comunità, che in collaborazione con la rete Bisogno d'Esserci, ha dato vita ormai cinque anni fa al blog Fuori dal Comune, un metodo per cui cerchiamo di far emergere le sensazioni dei ragazzi contenuti da loro. Noi cerchiamo di fare in modo che si esprimano e che imparino un approccio critico nei confronti di tutte le informazioni che ci piovono dai vari mezzi di comunicazione e dalla rete soprattutto, e quindi un approccio critico sia nel fruire le notizie sia nell'utilizzare strumenti e nuove tecnologie come lo smartphone che utilizziamo per esempio produrre video e interviste, per esempio. Beh, è importante conoscere questa esperienza. Direttore, abbiamo dei giornalisti in erba sul territorio, mi pare che questa sia anche la filosofia di Telefriuli, insomma i mille occhi puntati sul Friuli e quindi insomma tra qualche anno li vedremo qua, probabilmente a dare una mano ai nostri giornalisti. Anche prima di qualche anno, Tomada, se c'è qualcuno che ha piacere di inviarci i filmati può farlo già da domani mattina. E se c'è qualcuno che ha piacere di interagire con noi può, vedete c'è il numero in sovraimpressione, può interagire mandando un sms al 345 99 56 897, noi avremo piacere di leggerli in studio, c'è il direttore munito di tablet ma magari poi... No, dopo Elia, Elia l'uomo col copricapo. Ecco, l'uomo col copricapo è stato prescelto per fare da segretario alla puntata. Allora, stavamo presentando prima gli ospiti, io mi sono fermato ovviamente per Noblesse Oblige a Dino del Ponte, ma abbiamo qui anche un'altra istituzione come Nino Moro del De Ganutti, abbiamo la professoressa Sabrina Candussio del Marinelli, abbiamo la professoressa Doris Cutrino del Stringer, dell'Easy Stringer e abbiamo anche un'ospita sorpresa che presenteremo nel secondo blocco. Per tenere la sorpresa però siamo costretti ad andare un momentino in pubblicità, costretti per modo di dire, eh? Eccoci, siamo rientrati in onda e in questo secondo blocco il protagonista principale è il liceo Marinelli, il liceo scientifico a me è particolarmente caro perché, insomma, sono anch'io un prodotto di quella scuola e quindi, insomma, bravi, bravi che portate avanti il testimone del Marinelli. Ma dal punto di vista pratico non siamo qui a giudicare il cursus honorum del conduttore, bensì a capire in che modo i nostri amici del liceo Marinelli hanno declinato il tema dell'immigrazione. E io vorrei chiedere alla professoressa Canduscio che in un certo qual modo ha supervisionato questo tipo di impostazione, qual è stata la filosofia che ha guidato i ragazzi a realizzare, a interpretare in questo modo il tema. Noi avevamo più esperienze da poter raccontare ma eravamo indecisi su come gestirle e quindi ci siamo ritrovati, abbiamo avuto la consulenza e l'aiuto di un ragazzo che oggi, stasera, non ha potuto essere con noi, che è Luca, che però ha dato veramente un contributo notevole e tra le varie relazioni che poi ognuno dei ragazzi farà abbiamo pensato di privilegiare la storia di Priscilla e quindi Luca ha intervistato Priscilla. E allora andiamo a sentire questa intervista di Priscilla che poi fra l'altro abbiamo qua in studio e quindi via con il video del Liceo Marinelli. Ciao, come si chiama? Eva Priscilla. E allora vieni? Dalgana. E come ti sei trovata in Italia? Allora, io sono nata qua e ho 16 anni e mi sono trovata bene, a parte per certe cose, ad esempio il pregiudizio, diciamo, agli sguardi ogni tanto, i commenti, però diciamo che l'ignoranza e gli idioti lo trovi dappertutto. Ecco, parlando di appunto il pregiudizio, come si sente, com'è sentito il pregiudizio a scuola o comunque nell'ambiente scolastico? Tu come ti vedi questo ambiente? Lo trovo bene, ripeto, gli idioti ci sono dappertutto, la battutina, quelle cose ci sono sempre, però comparato con l'ambiente esterno non ho trovato problemi. Rappuntaci dai tuoi genitori, come sono arrivata in Italia? I miei genitori sono arrivati in Italia più di vent'anni fa, attraverso l'aereo, sì, non nei comuni come si è solito pensare. Come ti sei sentita tornando come ospite, praticamente, al tuo paese d'origine? È stato bello, in un certo senso, ma anche brutto perché sono in due realtà totalmente diverse e mi sono resa conto che comunque sono stata fortunata e quando mia mamma dice, eh sì, se potessi tornare indietro rimarrei lì, un po' dico, bah, un po' ti capisco, un po' sono contenta che tu mi abbia partorito qui in Europa, però adesso la capisco perché lei è sempre stata abituata a quel tipo di vita, per dovrei ritraversi qui, è difficile, preso l'amore. E per concludere, cosa diresti a coloro italiani che magari vedono l'arrivo di migranti come una cosa molto negativa? Cosa diresti a queste persone? Allora, intanto anche gli italiani sono emigrati, in tanti, quindi sì, è facile giudicare così, dal primo, sì, da quello che si vede, da quello che si sente, però proviamo a metterci nei panni di queste persone, io presumo che se fossero stati bene dove erano, sarebbero rimasti lì. in questo caso, prendiamo adesso l'ISIS e tutto quanto, cioè sono tutti fatti da considerare. Mia mamma e i miei papà si sono spostati, sia perché la vita lì comunque è diversa, e qua si sta decisamente meglio, ma anche per curiosità. Io dubito che le persone che si spostino adesso lo facciano per curiosità. Ecco, quindi questa l'intervista, però io volevo chiedere a Priscilla, quanti idioti hai incontrato in questi anni? Intanto buonasera. Buonasera. Ne hai incontrati tanti purtroppo. E si sono manifestati come? Attraverso, ma quotidianità, cioè ogni pretesto è buono per quel commento, quel... Senta, ma non bastano vent'anni di fatto di integrazione, perché i suoi genitori lavorano ormai, sono dei friulani acquisiti. Sì. Non bastano. Non bastano, ma non è colpa nostra, capisce? Ma la pelle è ancora un problema? Eh, purtroppo sì. Ma tuttora, anche oggi? Sì, io ribadisco, all'interno della scuola no, però una volta fuori. Lei a scuola si sente protetta? Mi sento... Sì, protetta. Non trovo problemi. Voglio coinvolgere gli altri ragazzi. C'è uno dei cartelli che ringrazio anche Marco Pasquariello che li ha selezionati oggi pomeriggio e chiedo a Gian Domenico, se si può mandarli in onda. Intanto, ecco, in questo caso, Brescia, la protesta dei profughi, cibo e ospitalità di bassa qualità. Volevo continuare con lei. Che cosa mi dice? Quando vede i profughi o quando si parla di profughi, cosa pensa? È tutta povera gente o no? Chi può dirlo? Nessuno può veramente dirlo. Ma lei ci sarà fatta un'idea? Mi sarà fatta un'idea. Ci sono tra di loro quelli che danno l'impressione di aver avuto bisogno di aiuto e quelli che invece danno l'impressione di gente che se ne è approfittata e basta. Ecco, vedo il secondo cartello. Si tinde i profughi davanti alla prefettura il cibo che ci viene dato non ci piace. I suoi genitori si sono abituati, hanno lavorato, si sono guadagnati il pane, no? Esatto, esatto. Quindi sono forse un po' diversi rispetto a questi signori. Vero, però ognuno è diverso e poi la situazione anche era diversa. Walter, posso cosa sentiamo? E dopo ti ricedo. Volevo andare un attimo dalle ragazze in bianco. Eccoci qui. Ragazze dello stringa. Ragazze dello stringa. Avete paura di profughi o no? Beh, diciamo che quando si passa, tipo io la mattina passo in via Cividale, che lì c'è un centro di accoglienza e diciamo che ho abbastanza paura che comunque ti guardano, cioè sembra che ti studiano, che vogliono a tutti i costi metterti le mani addosso e questo è soprattutto soggetto sulle ragazze perché comunque in questi centri di accoglienza le donne non si vedono, non ci sono e quindi sono più soggetti a guardare appunto le donne rispetto agli uomini. Ecco, lei in via Cividale, da sola, non ci va? No. Andiamo dal maschietto un attimo. Si vedono i maschietti, a Caverzerani ma nessuna donna. Che rapporto hai con i migranti? Ma devo dire che io li vedo anche perché io abito a Gorizia, devo dire questo, e anche a Gorizia vedo molta gente che si vede, insomma, che non è italiana, appunto. Io personalmente non ho paura, non ho timori verso di loro, anzi, cerco nel mio pensiero, insomma, di rispettarli come posso, insomma. Però, sì, ho notato che non sempre guardano noi del paese come integrati con loro e noi viceversa con loro, ecco. E quindi vediamo tutte le facce, insomma, del tema dell'immigrazione, in particolare adesso che ci sollecita molto la questione dei richiedenti asilo, dei profughi, che negli ultimi anni, soprattutto complici i grandi conflitti che esistono in una buona parte del mondo, si calcola siano 60 milioni in questo momento i rifugiati nel mondo, l'Italia ne accoglie un numero imprecisato in questo momento tra i 150 e i 200 mila, ma dal punto di vista tecnico è importante parlare anche dell'immigrazione, quella che ha coinvolto i genitori di Priscilla, quella stanziale da molti anni e che riguarda ragazzi anche per i quali ci sarebbe bisogno, da un certo punto di vista, di un riconoscimento anche formale della loro italianità. Si parla della cittadinanza per gli ussoli, è una proposta di legge che esiste in Parlamento, ma che è ancora ferma. Allora, Anna, dall'altra parte, ha come dire una cosa da dire in contrapunto a quanto è stato detto fino adesso, perché dal punto di vista logico loro si sono occupati proprio dei richiedenti asilo e quindi probabilmente... Io volevo intervenire per quel che riguarda l'essere impauriti dagli immigrati e soprattutto per quel che riguarda i centri di accoglienza. Io questa estate ho avuto l'occasione di passare 5 giorni in un campo di accoglienza, in un centro di accoglienza dove venivano ospitati solo ragazzi minorenni e sebbene inizialmente è vero le ragazze vengano viste con una certa diffidenza, poiché culturalmente, soprattutto in Pakistan o in Afghanistan, non c'è un approccio così semplice con l'altro sesso per quel che riguarda i ragazzi, non bisogna esserne impauriti, in quanto questa semplice timidezza nella maggior parte dei casi e non sapere come averne un approccio che sia considerato occidentale nella nostra maniera di vederlo, però non bisogna esserne impauriti, in quanto anch'io nella mia esperienza in quei 5 giorni, sebbene all'inizio non riuscissero a parlarci, dopo una volta visto quanto una persona riesca a essere aperta e amichevole nei confronti di un ragazzo immigrato che viene da fuori, riescono ad essere le persone più amichevoli del mondo. L'oscillazione tra la paura e l'accettazione di un'odissea che comunque non appare in molti casi scelta, vedete, è riflessa anche nelle opinioni dei nostri studenti. Ma abbiamo qui, tra di noi sempre, non riusciamo a capire se è un immigrato o un emigrato, sempre il nostro ospite misterioso e neanche in questo secondo blocco siamo riusciti a capire di chi si tratta. Dovremmo aspettare il terzo blocco, ma vedo che spunta una bandiera qua, c'è una bandiera inglese e una bandiera friulana. Ma che cosa apparirà quando scopriremo nel prossimo blocco di che cosa si tratta? Aspettate un momentino e naturalmente non andate via. E avete sentito che l'atmosfera in studio sia un minimo surriscaldata sulla questione dei profughi, era inevitabile. Si tratta dell'aspetto che più colpisce la nostra società e quindi anche i nostri giovani. Però c'è un aspetto dell'immigrazione, un aspetto dove sempre, comunque, tutto quello che è straniero finisce più per attirarci che per respingerci. Ed è un aspetto che riguarda il mangiare, il cibo. Il cibo che è multietnico è meglio, lo stiamo scoprendo sempre di più, lo stanno scoprendo tutti i buongustai e tutti gli operatori che stanno aprendo sempre di più in Friuli, Venezia Giulia, negozi di ogni genere o tipo che hanno a che fare con il cibo di tutte le etnie e lo sta scoprendo anche la scuola. Io chiederei, insomma, alla professoressa Doris Cutrino dell'Isis Stringer, istituto alberghiero che quindi, quando si parla di cibo, ristorazione, di eccellenza e di qualità, insomma, ha da insegnare a molti, chiederei in che modo loro hanno cercato di interpretare questo tema relativo all'immigrazione. Buonasera, noi abbiamo realizzato un video dove appunto il cibo la fa da padrone. Ci siamo resi conto che la comunicazione verbale spesso è inefficace, non trasmette quel messaggio che un ragazzo vorrebbe appunto far arrivare al compagno di banco. Però in cucina tutti i dubbi vengono dissipati perché la cucina ha un linguaggio universale, ha un linguaggio gestuale, ha un linguaggio dove non c'è bisogno della parola. Questo, vedete il nostro video così vi renderete conto di quello che abbiamo fatto. E allora, video sia, se possiamo mandarlo in onda, il prodotto dell'Isis Stringer che riguarda proprio l'immigrazione vista dalla cucina. che è una cosa domica? 26 giorni, cosa? Doma ci? è il momento oh ok, sei che io sono la cosa? cosa hai detto? non ho capito non ho capito un pozzo non ho capito non ho capito non ho capito non ho capito oh 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 did I disappoint you or leave a bad taste in your mouth you act like you never had love and you want me to go without well it's too late tonight to drag a pass down into the light we're one but we're not the same we get to carry each other carry each other oh 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 Davvero bellissimo questo video, è come quello di prima Abbiamo veramente dei video molto belli stasera da mostrare che testimoniano tutto il valore di questi ragazzi E io chiederei a Rachele, che è un po' la depositaria in questo senso della filosofia di questo video Se ci spiega un momento come si sono organizzati per realizzarlo e da chi è venuta l'idea Certo, buonasera, questa idea è partita un po' dalla nostra professoressa Che comunque ci fa sempre fare nuove esperienze e nuovi progetti E noi abbiamo accettato subito anche come bel progetto Perché appunto nel nostro istituto come la nostra classe ci sono vari tipi di idiomi diversi E infatti il messaggio di questo video era che anche con le difficoltà dell'integrazione Di integrarsi comunque in un ambiente scolastico Questi vengono diciamo tolti e quando si entra in cucina appunto Tutti sono uguali, tutti parlano la stessa Infatti mettendo quella divisa tutte le tensioni, magari le difficoltà, le diversità Non ci sono più ma sono tutte unite dalla cucina che è appunto la nostra passione E quindi questa secondo me è la cosa più importante e bella E quindi abbiamo un messaggio che è quello che il cibo unisce i popoli Il cibo è un idioma universale e alla fine a tavola Si ragiona tutti meglio e tutte queste diversità si ricompongono Il problema è che la tavola deve essere imbandita, deve essere piena E io adesso per scoprire un po' come ci si muove da una tavola imbandita all'altra Andrei dal nostro ospite qui a scoprire chi è l'ospite misterioso Anche se prima mi diceva il direttore che ci sono, cominciano ad arrivare dei messaggi Eh sì, allora il primo è per la professoressa Cutrino Che viene ringraziata per questa bellissima esperienza E saluta i ragazzi dell'Isis Stringer Matis ce lo scrive Chi è Matis? E dove è? Ha dato francese Allora complimenti per l'argomento e quanto per i mezzi che hanno a disposizione Riescono a fare gli insegnanti su questo Duola il cuore a percepire e ascoltare quanta ignoranza che c'è sul tema Soprattutto fra le generazioni da Marco L'immigrazione, scrive un altro telespettatore Una questione che di certo non va ignorata Forza Magrini Marchetti, forza Andrea Saluti da Miriam e Cif Noi italiani siamo stati immigrati nel passato Non capisco tutti questi pregiudizi Diamoci una svegliata Forza Magrini Marchetti da Cif e Miriam La 38esima LS del liceo Magrini è presente e supporta il blog Questo era per voi E quindi insomma abbiamo un feedback da parte di voi da casa Grazie E adesso scopriamo finalmente l'ospite misterioso L'ospite misterioso che ci introduce all'altra faccia della medaglia Cioè a quei friulani che si stanno Mentre il friuli si riempie di altre genti, di altre etnie Sappiamo, forse non lo sappiamo, che in realtà si riempie relativamente Dal momento che l'8% della popolazione attualmente residente in friuli è straniera Ma esiste un numero sempre più alto di friulani che si riscoprono appunto propensi ad andare all'estero 4.130 l'anno scorso Che non è un piccolo numero È un paese grande come Spilimbergo E l'Airee, l'anagrafa italiana residente all'estero dei comuni friulani Si rimpolpa sempre di più di persone giovani Allora, giovanissimo, proprio giovanissimo non è Ma qui tra noi, io sono molto felice di ospitare Un tecnico informatico che ha lavorato addirittura nella City di Londra Per quello c'è questo libro che, come dire, racconta a due facce con questa copertina Carlo Della Giusta, lo ringrazio di essere qui con noi Tu Carlo hai fatto un'esperienza che hai raccontato in questo libro Che è di prossima pubblicazione Che si chiama Si fa presto a dire parti Cosa volevi raccontare? Ma volevo raccontare la mia avventura in buona sostanza Un'avventura di emigrazione svoltasi tra il 2014 e il 2015 Quella di un cervello in fuga, come si dice adesso Quella, ok, non sta a me a dire il cervello Comunque io non sono certo emigrato perché dovevo Ho comunque un lavoro assolutamente ottimo Ho avuto un'opportunità professionale di provare a farmi valere Niente meno che nella City di Londra Che è uno dei due poli finanziari internazionali Laddove l'informatica ovviamente la fa da padrona E mi sono cimentato in questa avventura Cioè un luogo dove si spostano miliardi con un click insomma? Sì, dove un click del mouse Che uno normalmente fa sul suo computer Sposta normalmente almeno, non meno di un milione di euro di controvalore Solo con un click Ma scusi, ma vai all'estero, non aver paura Lei consiglia o sconsiglia? È un'esperienza secondo me da fare Tra virgolette da giovani Cioè appena finita l'università è una cosa che va fatta Perché comunque che poi uno decida di rimanere O decida di restare all'estero Allarga gli orizzonti mentali E ti permette di capire un sacco di cose Hai tornato indietro? Io sono rientrato, sì Perché? Ho scritto un secondo libro su questo Sto scrivendo un secondo libro su questo Domanda molto semplice E risposta veramente complicata Ma e quindi cosa fa adesso? E quindi adesso ho ripreso il lavoro di prima In buona sostanza Con ovviamente portandomi dietro tutto il bagaglio di esperienza Che ho avuto a Londra E a questi ragazzi che magari stanno facendo un pensiero A questi ragazzi dico che terminati gli studi Dovete andare Non aspettate troppo tardi Perché andando avanti con l'età Specialmente come l'ho fatto io A un'età non proprio verdissima Io sono emigrato a 45 anni Le cose si fanno un po' più difficili Non impossibili Però è meglio se decidete di fare l'esperienza all'estero Andare da giovani Senta lei a City non è andato sicuramente né col barcone Né nascosto nel doppio fondo di un tir Ma come è stato accolto? Sono stato accolto benissimo Tenga conto che nel gruppo, nel team dove lavoravo io Eravamo 10 persone C'era solo un inglese C'era poi persone da tutto il mondo Perché c'era una brasiliana, un estone Un indiano, un sudafricano Una persona che lavorava da remoto a Bratislava Per cui voglio dire Era un team multiculturale E gli inglesi ce n'erano relativamente poco Senta lei ha avuto il coraggio di andare Ha avuto anche il coraggio di tornare Non è la stessa cosa dei signori Che magari sono stati menzionati prima? No assolutamente no Difatti io comunque voglio dire Se era affronto la mia emigrazione Rispetto all'emigrazione per esempio di mio padre O di mio nonno Perché comunque sono andati Mio nonno era andato nelle miniere di rame del Sudafrica E mio padre è andato prima in Svizzera Prima in Venezuela quando aveva 16 anni E poi in Svizzera Non è andato via con la valigia di cartone Non è andato via con la valigia di cartone Però non sono emigrazioni paragonabili Quello che è paragonabile Quello che ho scritto sul libro È la fatica che comunque uno fa Per questo dico si fa presto a dire parti Cioè è semplice delle volte dire Ah hai una laurea in informatica in tasca Prenditi vai a lavorare allo sito Ma il saldo è positivo o negativo? Il saldo è assolutamente positivo È un'esperienza bellissima Ma senta è tornato in questa Italia Dove c'è la burocrazia Dove è difficile trovare lavoro Dove comanda il pubblico Dove il privato vuole farsi largo E non ce la fa molte volte Ma chi gliel'ha fatto fare? Non poteva rimanere là? Chi me l'ha fatto fare? La rimando al secondo libro Sì questa è la domanda che mi fa Ma mi dia qualche indiscrezione L'indiscrezione è che bisogna valutare Un sacco di cose Voglio dire Cioè non di solo pane vive l'uomo Se valutiamo dal punto di vista Strettamente del tipo di lavoro Della carriera Delle possibilità Dell'informatica Così come è fatta a Londra Londra tutta la vita Se uno Noi non siamo Siamo delle persone umane Non siamo delle macchine Programmate Per lavorare e basta Per cui uno segue anche altre cose Altri aspetti della propria esistenza Quali competenze sono necessarie Per lavorare all'estero In quei settori lì Cioè la nostra scuola Per tornare ai ragazzi E per dirglielo È in grado di preparare Gente di questo livello? Ecco questa è un'ottima domanda Allora io posso dire Ne parlavo con i ragazzi Prima che iniziassimo la trasmissione Io sono fiero di dire Che sono udinese a tutti gli effetti Sono nato a Udine Ho fatto il Malignani a Udine Elettronica E me ne vanto Sono contento E ho fatto Ho studiato informatica a Udine Quando Udine Era una delle sole cinque Facoltà di informatica In tutta Italia Siamo partiti in 130 matricole Ci siamo laureati in 15 Quindi solo il 6% È stato un massacro scolastico Però posso dire Che l'istruzione friulana Quella di più di 20 anni fa È un'istruzione che non ha Non deve temere niente A livello internazionale Io mi sono difeso benissimo E ho portato Tutto ciò che ho imparato Alle superiori E all'università All'estero Senza paura di nessuno E anzi Ho fatto le mie ottime figure Tant'è che sono riuscito In nemmeno due anni A cambiare lavoro E andare sul secondo lavoro Guadagnando un 40% in più Quindi voglio dire Le esperienze servivano Non so se purtroppo Le scuole stanno facendo Questi ragazzi Sono all'altezza della situazione Questo Non so quanto sia cambiato E allora Tra poco Andremo a vedere Anche il prodotto Del Del Littici De Ganuti Che Insomma Anche lui Ha Interpretato Questo tema Dell'immigrazione Ma soprattutto Sentiremo anche Se c'è qualcuno Di questi ragazzi Che vuole fare La stessa strada Di Carlo E che quindi Serebbe pronto A fare le valigie Allora Si fa presto A dire parti Ci ha detto prima Carlo della Giusta Il nostro ospite Tecnico informatico Emigrato alla City Ma poi anche Rientrato Per motivi Ancora misteriosi Che verranno spiegati Nel prossimo libro Noi siamo rimasti In sospeso Però con il De Ganuti Che ha elaborato Un video molto particolare Che io pregherei Giandomenico Ricci Di far subito vedere Perché Ne vale veramente La pena Ho visto un posto Che mi piace Si chiama mondo Uomini persi per le strade Donne vendute a basso costo Figli cresciuti In una notte Come le fragole In un bosco Più li guardo Più li canto Più li ascolto Più mi convincono Che il tarlo Della vita E il nostro orgoglio Ma questo è il posto Che mi piace Si chiama mondo Si questo è il posto Che mi piace I tuoi piccoli città Nascosti dalla nebbia Oh misericordia Noi siamo più con me Andiamo all'Inghilterra Crediamo nell'eternità E abbiamo visto questo bel video Che insomma Il piccolo mondo del De Ganotti Il piccolo mondo moderno Che abbiamo qui Sara Che magari ci spiega In una parola Due parole Velocissimamente Qual è il concetto Chi avete messo dentro queste immagini? Buonasera Allora abbiamo cercato Un video Che potesse essere Appunto Che avesse all'interno Il tema dell'immigrazione E abbiamo trovato Human Che appunto È un film documentario Che parla dell'immigrazione E di come le persone Appunto vivono Questo fenomeno A questo Mi è venuta l'idea Di aggiungere I volti Dei nostri compagni E secondo me L'immigrazione appunto È un fenomeno Che va Integrato Cioè va Bisogna farlo Nel nostro piccolo Bisogna aiutare Cioè tutti noi Dobbiamo aiutarlo Quindi anche a scuola Ogni giorno Anche a scuola E tu sei di origine? Io Sono nata in Italia E il papà È dell'Algeria Bene E allora Come dire Se passi il microfono Davanti a te Abbiamo un'altra ragazza Che è di origine rumena Che è Renata Vero? Tu come ti relazioni Rispetto non solo al video Ovviamente Ma alla realtà Del De Ganuti E alla realtà Al di fuori Io Mi sono trovata Molto bene In Italia Devo dire Che ho avuto Anche alcune Esperienze Spiacevoli A volte Però che ho incontrato Anche delle persone Veramente Stupende Ambienti Molto accoglienti Tra cui la nostra scuola Di cui ne vado Veramente fiera Sì Condivido anche La frase del video Io mi ritengo Cittadina del mondo Non mi ritengo Né cittadina italiana Né cittadina del mio paese Perché un po' Tutte e due i paesi Sono nel mio sangue Perché io sono qua Da cinque anni Quindi un po' Ho vissuto Sia nel mio paese Che in Italia Hai mai pensato Di andare via Cioè Parlando anche Dell'esperienza Che consigliava Prima Carlo Di fare A tutti voi Più o meno Sì Sì Ho pensato Di andare all'estero Quindi io sono già all'estero Però andare un'altra volta All'estero E Mi piacerebbe Andare in un altro paese Fare nuove esperienze Acquisire Nuove conoscenze E alcune tue compagne Già l'hanno fatto Perché ad esempio Caterina Che è vicino a te Insomma È stata negli Stati Uniti Vero? Sì Ho avuto l'esperienza Grazie ai miei genitori Soprattutto Di trascorrere un anno all'estero In America Dove? Precisamente in Minnesota E so benissimo Cosa vuol dire Essere una straniera C'è fretta Madonna Meno 30 gradi E sì So benissimo Cosa vuol dire Essere una straniera So cosa significa Insulti nei corridoi Torno a casa E con le cose lì Ne ho vissute So cosa vuol dire Passare Un'esperienza del genere E concordo pienamente Con la mia amica Renata Che noi siamo Cittadini del mondo E che Siamo tutti Stranieri Insomma E la tua amica Aurora Invece che è vicino a te È andata perfino più lontano Perché è andata Dall'altra parte del mondo Agli antipodi A trovare i canguri Vero? Sì Buonasera Mi ritengo fortunata Perché ho avuto l'opportunità Sempre grazie ai miei genitori Di passare due mesi in Australia In quanto la mia famiglia Abita là E Io non ho per niente sentito Questa discriminazione Perché veramente L'Australia È un paese Bellissimo Non esiste la discriminazione La si ritengono tutti uguali In quanto comunque Appunto Le persone che vivono là Che sono gli aborigeni Sono inattivi Cioè Sono quelle persone che Abitano lì da più tempo Quindi Quindi sono tutti emigrati In Australia Alla fine Sì Ho trovato anche molti italiani Che sono Compresa mia zia Che è andata là Quando era piccola Quindi dalla Sicilia Si è spostata in Australia Quindi ci sono tanti italiani Sì Beh benissimo Nino Nino Moro Come dire Un'altra istituzione Di fuoriclasse Cioè avere ragazzi così Pronti A fare la valigia Ma nel contempo Capaci di maturare Una visione così matura Di questi fenomeni Deve essere una soddisfazione Anche per un insegnante Che si appresta Anche lui A emigrare A emigrare A emigrare Verso dove? La vita Comunque Ti ho portato i peggiori Ah beh allora Tanti di migliori Chissà gli altri Beh Davvero insomma E' un'esperienza questa Tempo e si potrebbe parlare All'infinito Ma c'è questo problema Appunto che hanno Ancora Per la maggior parte Della popolazione italiana Ovvero quello del pregiudizio Che nonostante io sia nata E cresciuta qui Debba Non possa sentirmi Esattamente italiana Come tutti gli altri ragazzi Che sono qui accanto a me E non perché Perché ad esempio Lei è rumena Ok Però Però non ci si accorge Esatto Capito Ma cosa devo fare io? Cioè se ci sono nata così Non dovrebbe La diversità Non dovrebbe essere Una sorta di problema Anzi dovrebbe venire valorizzata Non dovrebbe essere una condanna Ma un valore aggiunto Esatto E a proposito Di questo tema E a proposito Di quello che è Il tema Focale In questo momento Che rende L'immigrazione Un tema così caldo Un problema così avvertito Io a questo punto Pregherei Gian Domenico Ricci Che ci aiuta in regia Insieme a Paolo Bassi E a Davide Nicolicchia Che ringrazio ovviamente Di mandare in onda Il video Del Isis Magrini Marchetti Che ha vinto Il premio Terzani Sul tema Proprio Della profuganza Siamo i ragazzi Della redazione Blog fuori dal comune Di Gemona E ci troviamo a Udine Dove l'associazione Ospiti in arrivo Tiene delle lezioni D'italiano Rivolte ai profughi Seraf Da dove vieni Io vengo dal Pakistan Hai dei sogni In futuro Sì sì In futuro Io voglio Fermare qui Cosa vuoi essere Nel futuro Cosa ci piacerebbe fare Nel futuro Io voglio Di lavoro Tradustore In commissione Perché avete scelto Di essere una volontaria Allora Il volontariato Aiuta in questo caso Aiuta in questo caso Il processo di integrazione Suggerirei a chiunque Di provare a fare Un'esperienza di volontariato Ci ho messo moltissimi mesi Prima di avvicinarmi All'associazione Perché avevo paura Di non riuscire A reggere la cosa Avevo paura Di aver paura Avevo paura Di incontrare queste persone Avevo paura Che mi fosse chiesto qualcosa Al di sopra Delle mie possibilità Avevo anche paura Che magari Portando un piccolo gesto Un piccolo apporto Mi fosse chiesto Sempre di più Perché ci sono delle persone Che dormono all'aperto E di chi è la colpa? È un po' di tutti Di un'incapacità generalizzata Di assumersi delle responsabilità Un fastidio politico Nel pensare Che in fondo Questi qua Stanno venendo qua A rubare delle risorse Ad approfittare Di alcune situazioni È un'incapacità generale Di affrontare questa situazione Quali provvedimenti Sono stati presi Per risolvere Questa situazione Così difficile? Dal 2013 Quando è cominciata Questa situazione Abbiamo lavorato Con la prefettura E quindi col ministero dell'interno E con le associazioni Del terzo settore Ad un programma Di accoglienza Siamo partiti Pensate Da 20 posti In questo momento Siamo in convenzione Con la prefettura A 350 posti E abbiamo dovuto Addirittura Aprire una tendopoli Prefettura Con croce rossa Da quasi 500 posti Penso che Più che altro Bisognerebbe Aver paura Di non essere Umani In questa situazione Perché alla fine Quelli che arrivano Sono uomini Sono persone Che hanno Desideri Aspettative Tanto quanto noi Sono persone Che hanno Desideri Aspettative Tanto quanto noi Giacomo Magari se ti alzi Così ti vediamo meglio Potresti raccontare In una battuta Qual è L'idea Che avete voluto Convogliare In questo prodotto Che è stato Premiato Vi ripeto Col premio Tarzano Piccola correzione Mi chiamo Andrea Ma non c'è Tranquillo Sono io Col premio Può capitare E niente Noi siamo partiti Dal fatto che Vogliamo trasmettere Anche una positività In quello che sta succedendo E non come purtroppo Troppi mass media Si impegnano A far apparire Solamente Ciò che c'è di negativo In questa situazione Pertanto abbiamo Potuto far vedere Che L'accoglienza E l'integrazione Possono essere Possono avere Anche un punto Un risvolto positivo E non solamente Una svolta negativa Come troppe persone Vogliono far vedere Volevo dire questo Un risvolto positivo Che noi possiamo vedere Anche in tante altre esperienze Ad esempio C'è Daniela Che è allo Stringer Che è presente qui con noi Che ha anche lei Una storia Di un'origine Che non è italiana Ma allo Stringer Come ti trovi? Allo Stringer Buonasera a tutti Tu dove sei intanto? Vengo dalla Serbia E mi sono trovata Molto bene A scuola Anche nella classe Mi sono sentita Subito integrata E ho avuto anche La facilità Di poter integrare A mio modo Anche altre persone Della mia classe E io Ho avuto Anche È stata per me Una fortuna E i miei genitori Purtroppo Sono scappati Dalla guerra Jugoslava Che è iniziata nel 91 E anche loro Hanno affrontato Delle difficoltà E questo Hanno aiutato Sia loro Che me A capire Tante cose E abbiamo chiuso Con la storia Di Daniela Perché questa Ci ricorda Che Udine E il Friuli Sono un avamposto Verso un est Verso un confine Che per primo Ha provato Che cosa vuol dire L'immigrazione Le crisi balcaniche Ci hanno fatto imparare Presto Cosa vogliono dire Le migrazioni E quindi Stasera Avete ascoltato Come l'eccellenza Delle scuole friulane È stata capace Di interpretare Questo tema Io Come dire Prima di salutarvi Vorrei che Come annunciato All'inizio Il professor Giampaolo Izzo Ci portasse però La voce Dello Stringer Istituzionale Abbiamo sentito I vostri ragazzi Ma La preside Anna Maria Zilli Che coordina Questa rete Ci manda Attraverso di te Un pensiero Da rivolgere a loro Tanto Walter Bravo Buona la prima Direi Un bel applauso Mi sembra Doveroso I saluti Della dirigente Anna Maria Zilli Che Come hai detto tu Giustamente Accanto ad una Vasta rete Di scuole A fin dal principio Sostenuto Questa esperienza Io credo che Questa opportunità Accanto a tante altre Opportunità Che Telefriuli Ha sempre dato Siano momenti Di incontro Momenti di crescita Di formazione Che servono Molte volte Anche a rompere Dei luoghi comuni Nei confronti Dei giovani L'abbiamo visto Anche questa Questa sera Con un tema Anche particolarmente Delicato Stare insieme Condivide Crescere Creare mentalità Critica Favorire la mentalità Critica Compito della scuola Compito meritorio Della televisione Della regione Friuli Venezia Giulia Credo che questa Sia la strada Che noi tutti Dobbiamo continuare A percorrere Grazie Gian Paolo E grazie a tutti voi Grazie alla regia Gian Domenico Ricci A Paolo Bassi E a Davide Nicolicchia Grazie al direttore Daniele Paroni Io mi Mi accodo A quanto ha detto Poco fa Il professor Rizzo Per me sei una sorpresa Vado a casa proprio contento Stasera Proprio contento E quindi Questa trammissione In buone mani Veramente Sei veramente spontaneo Per niente impostato Di cosa si parla La prossima settimana? Allora La prossima settimana Si parlerà di un tema Abbastanza complementare A questo Perché si parla Di identità Andremo a discutere Con i ragazzi Di altre scuole Se noi ci sentiamo Più friulani Più italiani O più europei O più Come è stato Detto stasera Cittadini del mondo Vi aspettiamo Venerdì prossimo Fuori classe Grazie a tutti Grazie a tutti